Paura questa mattina a Pagani, dove si è verificata una lite tra due operatori dell'azienda speciale Sam, culminata in un accoltellamento. Una lite accesa che ha coinvolto altri collaboratori che hanno tentato di intervenire per separare i due contendenti. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe avvenuta per questioni personali. Durante il confronto, uno dei due uomini ha colpito l'altro con un coltello, infligendogli ferite gravi. Gli operatori presenti sul luogo dell'incidente hanno immediatamente allertato i soccorsi e il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocero Inferiore per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Pagani insieme agli uomini della Radiomobile, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese. L'aggressore, dopo aver inferto il colpo, è stato immediatamente condotto alla tenenza dei carabinieri, dove dovrà essere ascoltato agli investigatori.